Paradisi si è reso protagonista di un autentico pezzo di bravura al 40esimo, fallo di rigore rilevato dall'anese, lucidissimo e sicuro sempre per l'arco dei 90 minuti. Paradisi conosce Antonioni, così si è detto e così è stato, rigore parato. Ma ad una manciata di secondi dalla fine del tempo sul cross di Antonioni, micidiale il Bertoni argentino con il suo colpo di testa, l'1-0 vincente.